Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla FIPILI per lavori in direzione mare, 4 km di coda tra Ponte d'Era Est e la diramazione Pisa-Livorno. Code a tratti in direzione Firenze per traffico intenso tra Ginestra e Firenze-Scandici. Sulla A1 code a tratti per traffico intenso tra Valdano e Firenze Sud in direzione Bologna. Sulla A11 in direzione Firenze, code tra Sesto e Firenze per Etola e code a tratti tra Pistoia e Elbivio per la 1. In direzione Pisa, code tra Firenze Ovest e Prato Est. Sul raccordo Siena-Firenze per lavori e rallentamenti in entrambe le direzioni tra Impruneta-Greve-Inchianti e l'allacciamento A1 di Firenze-Impruneta. La viabilità cittadina a Firenze in via Aretina per incidente e restringimento di carreggiata con code in aumento. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!